Quando ero piccolo ero spesso in ansia, quando avvenivano cose inaspettate, cose che non seguivano il modello regolare. Potevo andare in panico già avendo solo il pensiero di dovermi trasferire e non vivere più con i miei genitori. Quando inizia le scuole medie sentivo che c'erano tanti grandi cambiamenti. Fino ad allora ero cosciente del fatto che potevo facilmente essere nervoso ma non avevo mai sperimentato vera ansia. Tornata a casa dal mio primo giorno di scuola tutto andò bene ma quella notte non dormì. Ero molto irrequieto. Mi svegliai con un nodo allo stomaco e sentivo stress. Sapevo che il giorno successivo sarebbe stato tosto. Non riuscì a fare colazione e sentì una sensazione paralizzante che mi bloccava. Era come se un'onda mi stesse venendo addosso e sapevo che sarebbe stato difficile tenere la testa sopra l'acqua. Per i dieci giorni successivi non avevo assolutamente appetito. Era difficile prendere sonno la sera e al mattino mi svegliavo con uno stomaco in subugno. I miei genitori pregavano per me. Mi diedero conforto e mi sopportarono incoraggiandomi a confidare che Dio mi avrebbe aiutato. Avevo 11 anni e con la mia semplice fede infantile pregai a Dio per ricevere aiuto. I miei genitori mi portarono anche da uno psicologo che mi persquisse delle medicine che mi hanno aiutato così che mi calmasse un pochino. Andò un po' meglio ma il problema non era completamente risolto. Passarono degli anni. Avevo definitivamente la tendenza ad essere sopraffatto da una forma di stress interiore ma non avevo più dei seri attacchi di ansia. Tuttavia quando iniziai la scuola superiore sembrò che l'incubo riprendesse dal punto in cui avevo lasciato anni prima. Ero cresciuto e pensavo di aver imparato a gestire situazioni nuove ma improvvisamente quella sensazione paralizzante era di nuovo lì ed ero incapace di controllare i miei sentimenti. Perché Dio mi aveva creato così? Non capivo perché reagivo nel modo in cui facevo. Perché i miei fratelli e sorelle non erano così? Mi sembrava ingiusto perché io? Adesso lo capisco meglio. Dio aveva qualcosa che voleva dirmi. Voleva parlarmi attraverso ciò che sperimentavo. Dio parla ad alcune persone in un modo e ad altre in un altro modo. Ciò che Dio voleva era insegnarmi ad affidarmi a Lui e porre ogni cosa nelle sue mani. Durante quel giorno quando era difficile per me iniziare di nuovo la scuola i miei genitori e alcune delle persone a me più vicine continuarono a pregare per me. Mi ricordo una mattina in particolare quando ero completamente paralizzato dall'ansia. Mio padre mi portò dai nonni e chiese loro di pregare per me. Mia nonna era una donna di preghiera e quando entrai in classe quella mattina dopo che lei aveva pregato per me sentivo chiaramente che il pesante gioco che mi esprimeva era improvvisamente rimosso. Coloro che hanno veramente sperimentato l'ansia sanno che non puoi semplicemente prendere il controllo di un attacco d'ansia e mi resi conto che era Dio che aveva risposto alla nostra preghiera rimuovendo la mia ansia quella mattina. Se Dio è per me chi può essermi contro? Pensai mentre aprivo la porta della classe. Continuo ad essere ancora difficile ogni mattina quella settimana. Continuai a pregare a Dio e sapevo chiaramente che voleva qualcosa da me. Forse c'era qualcosa a cui dovevo rinunciare. Pensai se avessi potuto avere una fede ancora più forte allora lui mi avrebbe liberato da queste reazioni. Una mattina presto mi resi conto che dovevo parlare con mio papà e gli raccontai di sentirmi come un tunnel buio. Lui disse di essere sicuro che Dio aveva un piano con queste tribolazioni e poi scelse un versetto a caso della Bibbia. Il versetto era Osea 613. Venite torniamo al Signore perché egli ha strappato ma ci guarirà ha percorso ma ci fascerà. In due giorni ci darà la vita. Il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Forse questa era la risposta alle mie preghiere. E se questo versetto era solo una coincidenza? Tutto il mio modo di pensare umano si ripresentò in piena forza. Ma io decisi di credere, decisi che avrei confidato in Dio e gli dissi che doveva rimettermi in piedi, come diceva quel versetto. E Dio mantiene la sua promessa. Tre giorni dopo mi potei alzare senza sentire alcun segno di ansia o agitazione. Ero assolutamente calma e mi sentivo leggero come una piuma. Sapevo che questa non era una sensazione passeggera. No, Dio aveva curato le mie ferite, mi aveva ridato la vita e mi aveva reso libero e vivo. Questa era un'enorme esperienza di fede per me. Dio si mostra alle persone in modi diversi e a me si rivelò in questo modo. Fu attraverso queste forti tribolazioni e molto chiaramente attraverso il versetto della Bibbia che mi mandò. Dio rispose alle mie preghiere. Forse risponderà a te in un modo completamente diverso. Ma risponde sempre quando preghiamo a Lui nel modo in cui Lui vuole che preghiamo. Con un cuore puro e non diviso. E quando crediamo che possiamo essere salvati attraverso le tribolazioni che manda. Immagina che tutto ciò che incontriamo sulla nostra strada ci può portare in cielo, sia che siano circostanze leggere sia che siano difficili. Il tutto sta nel sfruttare quelle circostanze che sono date a me. Da quel giorno non ho più sperimentato ansia. Sono diventato una giovane persona con una visione positiva della vita. Dopo che Dio mi condusse fuori dall'ansia, mi ha spesso guidato attraverso nuove circostanze dove sapevo che tutto ciò che dovevo fare era porre tutto nelle sue mani. La mia anima continuerà a non essere facile quando le cose vanno un po' di traverso o quando entro in nuove situazioni. Ma sto imparando a lasciare che la mia anima giunga a pace e a tenere saldamente la speranza che ho ricevuto. Questa speranza la teniamo come un'ancora della mia anima, sicura e ferma. Ebrei 16 a 9 Ho sperimentato che Dio è buono e so che Lui ha un piano magnifico con tutto ciò che manda sulla mia strada. Pensa solo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Romani 8,28 Dio pesa le tribolazioni che manda. Lui sa di cosa ho bisogno per diventare una nuova creatura. Devo attraversare il fuoco per prendere parte a tutte le virtù di Cristo. Non tutti sono provati allo stesso modo, ma Dio sa esattamente di cosa ho bisogno io per essere purificato e purgato. Lui vuole che io sia una nuova creatura e questo è esattamente ciò che desidero con tutto il mio cuore.